2007 2008 2009 3 anni giovani nella chiesa italiana è l'agorà il 2007 è dedicato all'ascolto culmina nell'incontro con il Papa a Loreto l'1 e il 2 settembre 2007 il 2008 è dedicato alla testimonianza e all'annuncio e a luglio tutti a Sydney per la GMG nel 2009 il Vangelo si fa cultura 3 anni giovani questa è la chiesa italiana questa è la nostra agorà CEI servizio nazionale per la pastorale giovanile